C'è solo un presidente, un presidente, c'è solo un presidente. La serie D sembra molto più vicina, siete campioni d'inverno. Per il momento siamo avanti a tutti come auspicavamo e in ragione di quello che è stato il lavoro fatto fino adesso. Quindi i nostri sacrifici sembra che siano stati ripagati per il momento, ora comincia la fase più dura, ci sono ancora 15 partite, 45 punti in palio, dobbiamo portarli tutti a casa. Quali sono le squadre che più temete? Ci guardiamo allo specchio e temiamo la SD Comprensorio Vairano, quindi noi temiamo solo noi stessi. Siamo tre punti avanti alla seconda, quattro punti avanti alla terza, doppia cifra rispetto alla quarta, quindi temiamo solo noi stessi. Non abbiamo timore reverenziale per il Venafro che è una bella squadra e va sicuramente rispettata. Per quegli altri che sono dietro al Venafro non abbiamo proprio nessun timore. Natale si avvicina un augurio a tutti. Sì, noi ci teniamo tanto a nome di tutto il comprensorio Vairano a porgere i migliori auguri di Buon Natale e che queste festività possano portare amore nelle case di tutti i nostri tifosi, di tutte le persone che fanno parte del comprensorio, dai magazzinieri ai custodi, ai calciatori, a tutto lo staff perché davvero lo meritano tutti, sono tutte delle persone eccezionali che ci stanno dando una grossa mano. La Gaborista se ne va! La Gaborista se ne va! E se ne va!